Ciao a tutti amici, eccoci ritrovati con un nuovo video con il nostro Calciatori 2021 dove finalmente oggi con la Gazzetta, con Sport Witch, c'è dentro il nostro inaspettato, anzi aspettatissimo pacchetto con le 8 figurine, 5 fine del campionato e le altre 3 figurine che attendavamo. Ora apriamo, spacchettiamo e faremo vedere il contenuto. Eccoci ragazzi, spacchettiamolo, andiamo un po'. Allora abbiamo Mvp3, sono quelle che poi vi farò vedere con Cristiano Ronaldo, poi abbiamo la Mvp2, Ibraimovic, la Mvp1, il Papu Gomez. Eccoli qua, ai fini del campionato abbiamo dalla C6 alla C10. Allora, partiamo con la C6, abbiamo Mattia Zaccagni, la famosa rovesciata, eccola qua ragazzi. Poi abbiamo la C7, Cristiano Ronaldo, miglior marcatore. Poi abbiamo il C8, che è la vincitore della Supercoppa Italiana. Poi abbiamo la C9, che è Derbissimo Derby, la Gaza. E poi abbiamo con la C10, l'ultima, che è Achimi dell'Inter. Ecco ragazzi, oggi, adesso vi farò vedere brevemente dove vanno attaccate. Ecco ragazzi, le 3 figurine, scusate, calciatori, dove vanno attaccate vi farò vedere. Aprite l'album, dopo l'Udinese, vedete, allora dopo l'Udinese trovate la 1, che è il Papu. Poi abbiamo la 2, che è Ibra. E poi abbiamo la 3, che è Cristiano Ronaldo. Le attaccheremo dopo. Ecco ragazzi, oggi, scusate, oggi, adesso vi farò vedere dove vanno attaccate queste. Lo sapete meglio di me, però io ve lo dico. La C6, eccola. Poi abbiamo la C7, abbiamo la C8, la C9 e la C10. E qua abbiamo completato questa pagina. Successivamente avremo dalla 11 alla 15, con l'uscita della prossima gazzetta e la data la trovate qui segnata. Ecco ragazzi, quindi, repilogando, nella bustina, che prima vi ho fatto vedere e abbiamo spacchettato, eccola qua. Le abbiamo attaccate, abbiamo la MVP 1, la MVP 2 e la MVP 3, che sono settembre, ottobre e novembre. A settembre abbiamo il Papu Gomez, a ottobre abbiamo il Zlatini Mouric e a novembre abbiamo Cristiano Ronaldo. E ora passiamo al fine campionato. Ecco ragazzi, fine campionato, le abbiamo attaccate. Passiamo dalla C6 a Mattia Zaccagni, la sua sforbiciata. Poi abbiamo Cristiano Ronaldo, come miglior marcatore. Poi abbiamo la vincitrice della Supercoppa, la Juventus. La pagina della Gazzetta, cattivissimo derby. E per finire abbiamo Hakimi dell'Inter, che sta facendo un ottimo campionato. Speriamo che vada sempre bene, visto che io sono interista. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate tanti mi piace, iscrivetevi al canale e vi terrò aggiornato su tutte le variazioni, tutti gli aggiornamenti, tutte le cose che ci saranno riguardo all'album di quest'anno della Panini. Ciao ragazzi! Grazie!